Non solo la cittadella del basket a Villa San Martino con i suoi 4 milioni di investimento. Prende forma anche la cittadella dello sport in zona torraccia, finanziata da un milione e mezzo dal PNRR Sport e Inclusione Sociale per un progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale questa settimana e coordinato dagli assessori Pozzi e della Dora. Sarà un progetto armonizzato all'annessa pista ciclorotellistica già annunciata un anno fa anche dall'allora sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. La gara d'appalto è partita e dentro giugno, in un'area non distante dalla Vitrifico Arena, si inizieranno i lavori per realizzare una nuova palestra, uffici e spogliatoi dimensionati sulla base delle norme coni per l'impiantistica sportiva. Il tutto con servizio all'insegna dell'accessibilità e della sostenibilità alimentata da impianti fotovoltaici. Completerà il progetto un'area dedicata all'attività outdoor in cui sarà possibile praticare palla canestro, palla volo, calcio a 5, tennis e attività di fitness e calisthenics. Grazie. Grazie. Grazie.